Salve a tutti in questo video vediamo come superare la missione la via di casa parte 9 su avatar frontiers of pandora Missione che troviamo qua giù in basso a destra sulla mappa Esattamente qui e vediamo dove dobbiamo andare per completarla Esattamente al monte artiglio che si trova zoomando tutto indietro sulla scritta foresta di nembo foresta vedete qui Questo è il monte artiglio non si trova sulla cima bensì a metà Ora ve lo faccio vedere perché vado a diradare la nebbia andando sul posto comunque si trova sopra il mio cursore E il punto è proprio infatti a destra di quello verde che ho messo prima qui qui sopra qui troviamo l'edificio Quindi andiamoci con l'Ikran vi faccio vedere dove si trova Non è difficile da trovare perché appunto un piccolo avvallamento Giriamoci intorno ed eccolo qui si vede benissimo Quindi andiamo ad entrarci Da qui E qua dentro troviamo il nono fumetto che si trova qui Missione completata Sì Sì Sì